Primo giorno di lavoro ubriaca crea il caos picchiando non solo l'anziana che doveva assistere ma anche la sorella della signora e i carabinieri. Dal contratto per un impiego all'arresto il passo è stato breve per una badante romena di 50 anni. La donna era stata assunta per assistere una novantenne padovana ma nel suo primo giorno di lavoro ha malmenato l'anziana lasciandola a digiuno. E matomi vistosi notati dalla sorella ottantenne della donna che era andata a farle visita trovando la parente visibilmente scossa e in lacrime. La signora ha avvisato subito il nipote e ha chiesto spiegazioni alla badante ma a quel punto l'ira della 50enne romena in preda ai fumi dell'alcol si è riversata contro di lei aggredendola. All'arrivo anche il figlio della novantenne è stato insultato e malmenato per aver chiesto di andarsene. L'uomo ha deciso così di chiamare i carabinieri. La furia della 50enne non ha risparmiato nemmeno i militari e gli impiegati dell'agenzia che le avevano trovato il lavoro. La badante ha preso a schiaffi i carabinieri e li ha spintonati e alla fine è stata portata in caserma dove ha preso a calci altri militari. La donna è stata così arrestata per violenza pubblico ufficiale e poi scarcerata in attesa del processo previsto per il 12 settembre. Le due anziane sorelle malmenate hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni ma per loro lo shock è stato forte. Le due anziane sorelle malmenate ha preso a schiaffi i carabinieri e i carabinieri e i carabinieri e i carabinieri e i carabinieri. Grazie.